Ministro, lei ha parlato di 14 proposte per la riconversione del sito industriale di termini imerese. Lei ha anche detto che non vuole prestigiatori e magliari. Si riferiva a qualcuna di queste 14 proposte? Mi riferisco alla storia, ahimè, passata nel nostro paese, dove troppe volte ad insediamenti industriali che chiudono si sostituisce chi pensa di fare una speculazione a breve e poi dopo lascia un sito, un'industria, un'impresa allo sfascio. Ma c'è in mente qualcosa di preciso? Guardi, quando si ragiona su termini imerese si pensa ad un sito che è interessante perché è un'industria moderna, in uno spazio vasto, in un luogo significativo. È vero che è poco infrastrutturato. Le offerte sono 14, sono importanti avere molte persone che danno una disponibilità di investimento. Però noi vogliamo verificare con attenzione che si raggiunga l'obiettivo che il governo si è prefisso. E cioè dobbiamo fare una nuova industria moderna in quel territorio. E quindi è meglio scoraggiare subito, dicendo che non vogliamo magliari, chi avesse intenzione di far finanza. Vogliamo fare impresa. E mi auguro che le 14 diventino ancora di più.